Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Ballottaggio al fotofinish a Giulianova, dove Ivan Costantini sconfigge il leghista Pietro Tribuiani con una differenza di 60 voti e diventa il nuovo sindaco della cittadina riverasca. Costantini, a capo di un polo civico, vince con il 50,32%, sconfiggendo la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che si ferma al 49,68%. È stata una notte sofferta, sempre in bilico, quella che ha decretato la vittoria di Ivan Costantini, nuovo sindaco di Giulianova. Una manciata di voti, più o meno 60%, lo hanno distaccato al ballottaggio dal suo avversario leghista Pietro Tribuiani. Costantini, a capo di un polo civico, ha totalizzato il 50,32% dei consensi contro il 49,68% del candidato Tribuiani, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ivan Costantini ha vinto per un soffio. Le sue lacrime, prima della grande festa, sono irrefrenabili. Riprendete Giulianova e la cambierete? Sì, assolutamente. I giuliesi si riprendono Giulianova, ci siamo autodeterminati. È stata una corsa incredibile, voto a voto, onore delle armi al mio avversario Tribuiani. Siamo stati veramente voto a voto e alla fine abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e siamo riusciti a vincere questa campagna elettorale che è stata durissima. Pietro Tribuiani accoglie la notizia della sconfitta per 60 voti di differenza con un certo fair play e promette un'opposizione costruttiva. È stata una campagna durissima, si sfoga il candidato di centrodestra ai microfoni di TV6, anche con episodi di violenza gratuita come quelli avvenuti ai seggi dell'annunziata. Mi dispiace tantissimo per l'episodio che è accaduto questo pomeriggio. È un mio carissimo amico, tra l'altro una bravissima persona, veramente una persona molto buona, è stata spintonata un paio di volte, è caduta a terra, si è fatto male la testa, è stato ricoverato, è stato andato a pronto soccorso, poi per fortuna fisicamente sembra niente di grave. Nei due comitati elettorali, tutti con il fiato sospeso fino alla fine, lo scarto tra Costantini e Tribuiani è sempre stato minimo, poi sono arrivati i dati definitivi e la festa è iniziata sotto casa del nuovo sindaco. Abbiamo fatto due mesi durissimi, io ho avuto la febbre per almeno dieci giorni di questa dura campagna elettorale, sono andato avanti, domani mi prendo 24 ore per riposare, per cercare di metabolizzare una delle più belle sensazioni che ho avuto nella mia vita dopo la nascita di mio figlio e il matrimonio con mia moglie. Sapevamo che eravamo voto a voto, sapevamo che era Davide contro Golia, ma ogni tanto i sogni si avverano e noi abbiamo realizzato un sogno e l'abbiamo fatto grazie ai nostri cittadini che ci amano. Noi amiamo questa città e quando ami qualcosa vai al di là di ogni simbolo di partito. Dedico questa vittoria sicuramente alla mia famiglia e al mio amico che mi ha lasciato l'anno scorso. I festeggiamenti sono poi proseguiti fino al municipio di Giulianova, dove Costantini ha indossato la fascia tricolore e sono terminati all'alba, sulla spiaggia. Il movimento Mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso rende note alcune incongruenze rilevate nella proposta del piano di emergenza esterno dei laboratori di fisica nucleare, dati discordanti che non eliminerebbero il grave rischio di inquinamento dell'acquifero sia per il versante aquilano che per quello teramano. I cittadini abruzzesi e soprattutto quelli teramani e aquilani hanno corso e corrono seri rischi per un possibile inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso. Esisterebbero evidenti incongruenze nella proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori evidenziate dal Movimento di Mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Tre i punti essenziali. Per il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco le sale dei laboratori sono impermeabili, per la Prefettura dell'Aquila no. Secondo l'Arta le volte dei laboratori devono essere verificate sismicamente come segnalato alla Procura di Teramo e infine le gallerie non sarebbero più a norma da tempo ed era compito del gestore adeguarle. La Prefettura dell'Aquila ha redatto la proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori del Gran Sasso per la presenza delle 2.300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose stoccate, voglio ricordarlo, irregolarmente vicino ai punti di captazione dell'acqua potabile di Teramo e dell'Aquila. Ecco, in questa proposta di piano di emergenza esterno per la prevenzione degli incidenti rilevanti che possono accadere c'è scritto intanto che a causa del rischio sismico ci potrebbero essere dei veri e propri sconvolgimenti che possono interessare anche i laboratori addirittura con fratture che ci possono essere all'interno delle sale e poi che il coinvolgimento può essere non solo della provincia dell'Aquila ma anche della provincia di Teramo quasi tutta e anche di parte della provincia di Pescara. Noi rileviamo però nelle nostre osservazioni che ci sono anche delle cramorose incongruenze perché nello stesso documento il CTR dei Vigi del Fuoco, il coordinato dei Vigi del Fuoco ha scritto che è tutto impermeabile, quindi a questo punto noi ci chiediamo se stiamo facendo questo can-can che ci sta inutilmente, invece la prefettura dell'Aquila mettendo una pezza a colori ha scritto nero su bianco nello stesso documento che invece le sale non sono impermeabilizzate e quindi sono permeabili e quindi in caso di incidente ci può essere uno sversamento che interessa anche l'acqua. Questo sta scritto nello stesso documento. Il movimento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso stigmatizza infine l'atteggiamento definito paradossale dei laboratori di fisica nucleare che si lamentano con la regione per la perdita di attrattiva che l'intera vicenda sta causando alla struttura scientifica. I sindaci dei crateri sismici di Abruzzo, Marche e Lazio si sono dati appuntamento sotto la loggia del municipio di Teramo per protestare contro i mancati fondi per la ricostruzione decisi dal governo. Una mobilitazione senza precedenti con la quale i primi cittadini hanno voluto esprimere la disperazione e la desolazione dei propri territori. Sotto la loggia del municipio di Teramo, inagibile da ormai tre anni e mezzo, si sono uniti in una mobilitazione permanente senza precedenti contro il governo i sindaci dei crateri sismici dell'Abruzzo, delle Marche e del Lazio. Presente anche il presidente nazionale del Lanci, Associazione Comuni Italiani. La protesta è corale, la ricostruzione è totalmente ferma per mancanza di fondi, la legge sblocca cantieri, non apporterebbe risorse adeguate per i territori terremotati. Luoghi e tradizioni sono destinati così a morire. Il sindaco Gian Guido D'Alberto grida forte il suo disappunto. Oggi inizia una mobilitazione permanente per avere le risposte che non abbiamo ancora ricevuto, non tanto noi sindaci ma attraverso i sindaci i nostri territori. Il momento è un momento decisivo, in Parlamento si sta discutendo la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, noi abbiamo chiesto misure straordinarie per una situazione grave, di gravissima emergenza permanente e queste misure straordinarie le vogliamo subito, ora all'interno della legge di conversione del decreto sblocca cantieri, così come c'era stato promesso prima delle elezioni. La fase elettorale è finita, adesso le promesse e gli annunci vogliamo che si traducano in fatti concreti e oggi i fatti concreti sono norme giuridiche inserite all'interno della legge di conversione. La partita si gioca a Roma e quindi in questo momento è una chiamata alla responsabilità da parte di tutti i nostri parlamentari, a prescindere dalle appartenenze geografiche del cratere e delle appartenenze politiche, si stringano intorno al nostro territorio perché ieri abbiamo festeggiato la nostra Repubblica, festeggiare la Repubblica significa soprattutto assumersi le responsabilità per dare risposte al territorio, tutte le istituzioni chiamate in causa, noi come sindaci siamo in prima linea e lo stiamo facendo da due anni e mezzo ormai. Oggi dobbiamo partire, ripartire con una ricostruzione che purtroppo è ferma attraverso modifiche legislative, quindi il Parlamento deve dare le risposte. Alla mobilitazione dei sindaci del cratere sismico delle tre regioni, Abruzzo, Marche e Lazio, hanno assistito tanti cittadini, molti dei quali sfollati. Strideva invece l'assenza dei consiglieri regionali e soprattutto dei parlamentari terramani, questi ultimi impegnati a New York per incentivare l'export dei prodotti locali. La CGL Teramo lancia dure accuse all'Asla Teramana per la presenza di mille lavoratori precari. Il sindacato auspica l'avvio immediato di un tavolo di concertazione con l'azienda sanitaria. Dura presa di posizione della CGL Teramo sul diffuso ed eccessivo ricorso alla pratica degli appalti negli enti pubblici, una situazione che avrebbe indebolito e impoverito tanti lavoratori. Il sindacato punta il dito soprattutto contro l'Asla Teramana, all'interno della quale sono più di mille i precari tra lavoratori in appalto e interinali. Qual è la vostra ricetta per superare la precarietà? Partiamo dall'Asla che ha una situazione molto evidente. Sì, noi abbiamo da tempo, insomma, ci stiamo battendo in maniera diffusa e convinta con una pluralità di iniziative per recuperare la precarietà. Abbiamo circa mille lavoratori che non sono dipendenti direttamente dall'Asla, ma svolgono due lavori per l'Asla. Mi riferisco a quelli che sono i lavoratori degli appalti, subappalti. Voi cosa proponete? Noi proponiamo appunto che ci deve essere un tavolo nel quale tutte queste attività devono essere considerate, cioè devono essere comunque trattate. Il CGL Teramo sottolinea anche altri aspetti di difficoltà che vivono i lavoratori precari dell'Asla Teramana. Parcheggio a pagamento all'ospedale Mazzini, ma soprattutto il fatto di non essere regolarmente pagati dalle società che hanno in appalto i servizi. E poi c'è un altro problema, c'è il problema dei parcheggi. Sì, è un problema che attanaglia tutti i dipendenti dell'Asla che sono costretti ad arrivare circa 40 minuti, anche più prima, per poter trovare il parcheggio e si presentano sul posto di lavoro con uno stress psicofisico già importante. Quindi voi cosa chiedete all'Asla? Noi, una prossima iniziativa sarà quella di fare una raccolta firme tra i dipendenti appunto per sensibilizzare l'Asla di fronte a questa problematica, sperando che i vertici dell'Asla, il buon senso dei vertici dell'Asla, si prodighino affinché risolvano questa annosa problematica. E poi ci sono diverse società che hanno in appalto dei lavori, dei servizi, che prendono soldi dall'Asla ma non pagano regolarmente i lavoratori. Sì, ci sono società che hanno in appalto la ristorazione, le pulizie. Noi, insomma, negli anni ci siamo dovuti confrontare con queste ditte che hanno vinto gli appalti e che, insomma, la cosa minima è che hanno cercato di tagliare gli orari di lavoro. E poi, insomma, abbiamo, per l'ospedale di Santomero ci fu un'avvertenza pesantissima perché la ditta che aveva in appalto le pulizie non pagava gli stipendi regolarmente, non li aveva un grosso arretrato e alla fine le lavoratrici per recuperare il credito hanno dovuto fare causa e quindi aspettare anni, pagare gli avvocati, è soprattutto una situazione che è inaccettabile. La prossima settimana i 29 lavoratori della Tercop non avranno più un lavoro. Il servizio di gestione dei parcheggi per conto del Comune di Teramo scade il 15 giugno e sarà sospeso a tempo indeterminato. L'amministrazione, infatti, non ha ancora approntato una nuova gara d'appalto e fino ad allora anche il Comune perderà gli introiti degli stalli a pagamento. Tra una settimana esatta i 29 lavoratori della Tercop, la cooperativa sociale che da anni gestisce parcheggi per conto del Comune di Teramo, saranno senza lavoro. Dopo diverse proroghe, i dirigenti comunali hanno ritenuto opportuno che ci fosse una nuova gara di appalto. Nonostante siano trascorsi molti mesi, il bando non è stato ancora messo a punto e il 15 giugno il servizio della Tercop sarà sospeso a tempo indeterminato. Una situazione che determinerà la perdita di lavoro per 29 persone, molte delle quali socialmente svantaggiate, e un mancato introito per il Comune. Un disastro sociale e anche una perdita economica per le casse comunali. Una scelta ovviamente veramente incomprensibile se pensiamo che questa scelta è stata presa da dirigenti che dal 2012 avrebbero dovuto fare una gara d'appalto, nonostante le indicazioni delibere, ovviamente noi parliamo con gli atti, della Giunta dove hanno mandato loro di aumentare gli stalli addirittura e preparare la gara e fare la gara, questi qua praticamente in sei anni non hanno fatto né la gara né aumentato gli stalli, praticamente ci hanno continuato a far lavorare sotto costo e adesso che questa amministrazione che subentra gli ha mandato loro di preparare finalmente una gara un'altra volta, praticamente questi che fanno sospendono il servizio. Ma secondo lei è una sciatteria o c'è dolo? Secondo me siccome potrebbe essere incapacità o dolo, siccome sono dirigenti super pagati, confermati, premiati eccetera eccetera, quindi io a occhio e croce non propendo per l'incapacità perché ovviamente avere dei dirigenti di lunga data incapaci mi sembra un pochettino poco credibile. E quindi rimane l'altra ipotesi che i magistrati, se ovviamente questa storia perché si dovesse concludere proprio male, i magistrati noi chiediamo che vengano ad indagare la verità. Un miracolo però potrebbe ancora avvenire, l'amministrazione comunale di Teramo ha indetto una riunione con i vertici della Tercop per trovare una qualche soluzione tampone, ma il presidente Iachini oramai è sfiduciato e non nasconde più la possibilità di un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Presentato a Palazzo Melattino a Teramo il Master di secondo livello in medicina di genere che si terrà all'Università dell'Aquila. Il progetto su impulso della professoressa Teramana Lia Ginaldi sarà finanziato dalla Fondazione Tercas. Per l'anno accademico 2018-2019 l'Università dell'Aquila su impulso della professoressa Teramana Lia Ginaldi e con il sostegno della Fondazione Tercas ha istituito il Master di secondo livello in medicina e salute di genere. La medicina di genere si prefigge il raggiungimento dell'eguaglianza tra uomini e donne anche nella cura, nella protezione della salute e di fronte ai servizi sociosanitari. A presentare il Master a Palazzo Melattino è intervenuta Alessandra Carè, direttore del Centro di Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità. La medicina di genere non vuole essere una nuova branca medica ma un nuovo modo di affrontare tutte le specialità già esistenti, quindi un occhio alle differenze tra uomini e donne in tutte le situazioni fisiologiche e patologiche generalizzate. Adesso con l'approvazione della nuova legge, legge 3 2018, approvata la scorsa settimana dalla conferenza Stato-Regioni, assisteremo al reale avvio dell'applicazione della medicina di genere sul territorio nazionale. Non è solo un progetto, in realtà è una realtà che risponde a un'esigenza legislativa, quindi noi abbiamo la necessità di dover formare non solo i nostri studenti ma anche chi nel passato non ha avuto l'occasione di conoscere questa realtà. La medicina di genere è una sfida tecnologica, non è solo il cercare di riconoscere le differenze che ci sono tra uomo e donna, non è solo quello di capire come poter intervenire sulle patologie neglette che sono poi a volte misconosciute proprio perché non caratterizzate all'interno della differenza di sesso, ma è un progetto scientifico di eccellenza. La fondazione Tercas dedica attenzione alla medicina di genere ormai da 10 anni. Nel 2009 e nel 2011 la fondazione finanziò due progetti sulla salute della donna proposti dall'Università dell'Aquila e dall'Asla di Teramo e realizzati nell'unità operativa complessa di immunologia clinica dell'ospedale Mazzini, sede della relativa scuola di specializzazione diretta dalla professoressa Ginaldi. Ha avuto la fondazione una particolare sensibilità in un settore che oggettivamente oggi sta dando una grande rilevanza. Qui a Palazzo Melatino è una bella giornata, oggi stiamo vivendo perché sono presenti grandi personalità nel mondo della medicina di genere e soprattutto avviamo questo progetto di formazione relativamente a un master sulla medicina di genere, un master che la fondazione ha ritenuto di poter finanziare in larga parte, consentendo quindi a tutti coloro, medici e paramedici che fossero particolarmente interessati, di avere un contributo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, vi lasciamo alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consorfom. Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che si possono cogliere diventando operatore socio-sanitario. Grazie e buona serata a tutti.